Sarà per la prima volta una donna a ricoprire l'incarico di primario del pronto soccorso di Pescara. Si tratta di Tiziana Ferrara, attualmente dirigente medico al Dipartimento di Urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. È stata scelta dalla ASL tra 12 candidati per sostituire il primario Alberto Albani in pensione dallo scorso 29 aprile. Tiziana Ferrara prenderà servizio dopo la sottoscrizione del contratto con l'azienda sanitaria pescarese. I problemi naturalmente sono tanti. Massimo Di Giovanni, segretario generale Funzione Pubblica CGL Pescara. Diciamo che le priorità da affrontare e risolvere sono due, il sovraffollamento e la riduzione naturalmente dei tempi di attesa. Certamente sì. Sulla persona nominata, direttrice primaria del pronto soccorso, il giudizio è sospeso perché più che la persona bisogna guardare l'aspetto organizzativo complessivo a cui facevi riferimento. È evidente che qui c'è un problema di carattere organizzativo. Con ogni probabilità si utilizzerà un'app anche come pronto intervento unico, quindi le ambulanze, per vedere dove collocare prima e in maniera meno complicata dal punto di vista dei tempi di attesa gli utenti, i pazienti che hanno bisogno del pronto soccorso. Un esempio per capirci, se è decongestionato il pronto soccorso di Chieti, si sceglierà di andare a Chieti piuttosto che a Pescara e così via per quanto riguarda popoli piuttosto che penne. C'è anche un problema di carenza di personale. Come si supera? La carenza di personale si supera in questo modo. Noi abbiamo fatto un'azione sinergica, devo dire, con l'ASL e anche con la Regione Abruzzo, perché a Pescara, in special modo, i contratti a tempo determinato, quelli presi nella fase emergenziale pandemica, circa 400 dipendenti, erano stati rinnovati soltanto per il mese di luglio. Abbiamo chiesto un incontro importante qua con l'ASL e con la Regione Abruzzo e finalmente sono stati prorogati fino al 31-12-2022. È evidente che in questa fase noi abbiamo un altro problema, quello di stabilizzare questi lavoratori precari, perché appunto 400 lavoratori fanno la differenza nell'aspetto del servizio sanitario, sul renderlo efficiente e di qualità o meno.